A Rezzo-Renate è una sorta di scontro diretto. Inutile girarci intorno o provare a nascondere la realtà di una classifica che vede Nerazzurri a un solo punto dietro Yamaranto, alle prese con la prima partita senza Sirri e Moscardelli. Il ruolino di marcia del Renate si discosta pochissimo da quello dell'Arezzo, con 14 gol e 11 subiti, mentre fuori casa Nerazzurri hanno centrato solo 4 punti sui 17 totali. Sottili tornerà al 4-2-3-1, mancheranno Sirri e Moscardelli, allora ecco l'esordio dal primo minuto in campionato di Matteo Solini, tra l'altro ex della partita, che formerà la coppia centrale di difesa con Zak Muscat. Sugli esterni di difesa toccherà di nuovo a Luciani e Masciangero, mentre davanti alla retroguardia ecco Foglia e De Feudis. Alle spalle dell'unica punta Polidori toccherà ad Arcidiacono e Ianga con Paolo Grossi trequartista. L'externana tornerà dall'inizio a distanza di oltre un mese dall'ultima apparizione, quella Alessandria Rezzo terminato 1-0 per i grigi e che risale al 14 settembre del 2016. Il Renate risponderà con il 4-3-3, Luciano Foschi non snaturerà l'ordine tattico dei suoi ragazzi tra gli elementi più temibili, Palma, Scacca Barozzi e in attacco dove la manovra ruoterà attorno ai centimetri di Marzeia, attaccante dal fisico possente che sarà supportato da Lavagnoli e Napoli. Calcio d'inizio alle 16.30. Arbitro dell'incontro Matteo Proietti di Ternico, adiuvato da Marco Cecchi di Pistoia e Dario Garzelli di Livorno. Una designazione davvero curiosa, quella per la partita tra Rezza e Renate, che vedrà il primo assistente originario di Pistoia, città dove gli Amaranto andranno a giocare domenica 6 novembre, e il secondo assistente di Livorno, società affrontata lunedì scorso da gli Amaranto.